Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele e bentornati a questo nuovo appuntamento uscita numero 7 della leggendaria Citroen 2 cavalli Charleston in scala 1-8 della De Agostini. Allora come è giusto fare vi ringrazio sempre che mi seguite, che mi commentate, datemi consigli ragazzi costruttivi perché sono importanti, è vero che sono importanti le iscrizioni e le visualizzazioni, ma è importante anche che ci siano persone che credono insomma anche a quello che faccio e che quindi mi diano una mano per migliorare giorno dopo giorno. Grazie ragazzi, grazie del vostro tempo. Andiamo a vedere come ripeto ad ogni video e ripeterò ad ogni mio video perché mi auguro ci siano sempre più persone nuove che mi guardino e che decidono anche di iscriversi e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video, mi raccomando ragazzi, stavo appunto dicendo che io ci tengo a consentire alle persone che per una ragione o per l'altra hanno deciso o purtroppo sono state costrette perché i soldi ragazzi, io almeno non ci navigo nei soldi, quindi vi capisco perfettamente se questo è il motivo e quindi sono stati costretti ripeto o per una ragione o per un'altra a non fare questa meravigliosa collezione e quindi io mi permetto di farvi vedere non soltanto le foto all'interno dei fascicoli ma anche la scrittura, il contenuto proprio e la storia di tutto quello che è questa ciliegina in più oltre al modello sulla torta come dico spesso è un valore aggiunto alla collezione ragazzi. Allora prima pagina vediamo se ingrandisco un po' perfetto, pagina è sempre quella dei servizi è inutile che io parli perché è tutto scritto qui non saprei sicuramente fare di meglio che farvi appunto leggere. E mi raccomando ragazzi eh i miei amici i miei nuovi amici non mandate avanti il video perché voi la state facendo e quindi non vi serve perché ovviamente questo questo metodo che sto adesso adottando è per quelli che non fanno la collezione come ho già detto all'inizio e quindi voi cosa fate? Mandate avanti il filmato. No ragazzi no, non è una cosa bella da fare guardatelo tutto perché Michelino ha bisogno di visualizzazioni e di scritti come tutti quelli che iniziano a lavorare lavorare. Lavorare è una parola grossa adesso come adesso iniziano a intraprendere questa questo progetto nuovo allora che appunto lo chiamano youtuber va bene questi sono i contenuti di questo fascicolo numero 7 che poi andremo subito dopo a vedere bene 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 nel dettaglio queste le fasi del montaggio faccio solo vedere così poi le guarderemo sicuramente meglio comunque sono spiegate veramente bene il montaggio è veramente spiegato bene qua sono andato un po troppo veloce e ci sono delle foto bellissime abbiamo quasi finito e ci sono andato un po' di questo ed ecco qui la nostra splendida Citroen 2 cavalli Charleson in tutta la sua bellezza bellissima una foto che troveremo in tutti i fascicoli eccoci qua ragazzi procediamo adesso all'apertura del contenuto del fascicolo numero 7 ecco qua ragazzi vi ho risparmiato l'apertura del blister andiamo subito a vedere ci forniscono di un cacciavite come già detto nel video precedente più piccolo è plastica ci sono dei particolari colorati questa dell'apertura della porta della cerniera della chiusura della porta questo è metallo abbiamo una due e tre serie di viti una DM ricordatevi sempre che il colore nero indica che la vite va avvitata nel metallo e in più c'è la lettera che vi aiuta M metal metallo abbiamo un'altra serie di viti CM e EM leviamo questo e questo e andiamo a guardare cosa abbiamo questi qua sono in plastica sono i vetri sono carini qua abbiamo dei particolari cromati guardate che carini con i gommini qua dietro e un cappello in plastica questo è per il basculante sicuramente per farlo vedete guardate gira per consentire al finestrino come in quella vera di poter basculare allora 1 2 3 4 5 6 7 pezzi questi sono i pezzi che sono contenuti nel fascico numero 7 procediamo adesso al montaggio eccoci qui a pagina 5 abbiamo il pannello interno della portiera anteriore sinistra la parte fissa del finestrino quella superiore la parte mobile del finestrino quella ovviamente inferiore la cerniera che è in metallo un cacciavita croce più piccolo e abbiamo detto una due e tre serie di viti adesso andiamo a prendere la portiera eccola qui dell'uscita precedente la numero 6 e andiamo come in figura ci mostra a posizionarla vi consiglio sempre di posizionarla come ci mostra la ci troviamo meglio ed evitiamo possibili errori allora vediamo cosa ci dice qui recupera la porta anteriore sinistra che hai ricevuto insieme al fascicolo scorso il numero 6 sul lato esterno della porta disponi la parte fissa del finestrino quindi lato esterno della porta non ovviamente di qua ma di allora guardiamo un po allora ragazzi ho messo in pausa per comprendere meglio come va montato fate molta attenzione ci dice capovolgi la porta e lavorando dall'interno inserisci le linguette del finestrino fisso le linguette sono queste 1 2 e 3 negli intagli sul bordo della porta 1 2 e 3 posiziona prima la linguetta 1 e 2 poi la linguetta 3 eccola qui la linguetta 1 e 2 quindi 1 2 e 3 allora ragazzi fate attenzione perché rischiate di romperlo non è molto semplice se non si fa attenzione ma se si fa attenzione è molto semplice allora guardate qua il primo e il secondo va incastrato subito il terzo dovete premere e farlo incastrare da sotto cioè premete con il dito sotto leggermente adesso vi faccio vedere e lo fate incastrare in questo ultimo qua guardate mettiamo uno mettiamo due vedete il terzo rimane fuori guardate vediamo se riesco a farvelo vedere perché montare è facile ragazzi ma spiegare montare inquadrare vi assicuro che non è semplice allora guardate io ho inserito 1 e 2 vedete 1 1 qui e 2 qui inserito il terzo invece fuori vedete ecco una volta che controllate che avete messo l'1 e 2 guardate qui vi faccio vedere 1 e 2 sono inseriti il terzo va a pressione quindi dovete premere con le dita pollice e indice dietro sul bordo guardate e inserirlo aspettate ecco qua vedete perfettamente in linea accertatevi che sia perfettamente in linea con il metallo però io ve lo dico ragazzi dovete prestare molta attenzione non dovete assolutamente per nessuna ragione pressare la parte trasparente perché altrimenti la rompete di sicuro la plastica dovete pressare una volta che avete visto 1 e 2 dentro inseriti bene dovete pressare in direzione chiaramente di questo solo sul bordo argentato mi raccomando ragazzi altrimenti ripeto rompete la plastica ok giriamo allora il finestrino fisso quello che abbiamo appena messo deve adattarsi perfettamente bene al bordo superiore va bene della porta anteriore sinistra le linguette devono essere nelle apposite sedi all'interno della porta prima di installare il finestrino mobile quello che metteremo adesso accertati che quello fisso sia posizionato correttamente a questo punto possiamo installare sulla porta anche il finestrino mobile collocandolo sotto il finestrino fisso allora fate così queste due parti vanno messe perpendicolari mettiamo a fuoco bene l'immagine vedete poi appoggiate prima la parte superiore contro il finestrino allora guardate un attimo io qui ho una piccola sbavatura qua sotto ne sono accorta adesso sentite adesso vado a toglierla e la rendo perfettamente in piano perfetto eccoci nuovo qua allora guardate appoggiamo il nostro finestrino all'interno prima inseriamo la parte superiore la facciamo andare a combaciare contro la plastica toccate che sia filo e poi schiacciamo qua sotto finché non va in battuta dietro qua qui è perfettamente in piano perfetto le linguette come vedete sono in linea con i fuori sotto e andiamo adesso a mettere quattro viti cm due qui e due qui eccole qui queste cromate apertura facilitata del sacchetto col dito pollice e dito indice sfregamento ecco qua calamitato anche questo perfetto tutte sono uscite una è sempre in più ricordatevelo quindi adesso ragazzi io ne metto una e poi metto la pausa perché le altre insomma è lo stesso procedimento andiamo a vedere tenetela bene su un piano non schiacciate subito dovete aspettare che la vite venga chiamata da sola va giù da sola non schiacciate che fate danno ok adesso ci vediamo dopo ragazzi montiamo tutte e quattro le viti cm eccoci di nuovo qua ragazzi andiamo a controllare mi raccomando quando avvitate le viti non stringetele troppo forte perché poi girano a vuoto e rischiate di perderle poi guardate andiamo a vedere il funzionamento eccolo qua guardate che spettacolo quando andate a chiuderla non premete mai per nessuna ragione qui sempre qua sotto sul bordo questo argentato vedete ecco che vada in linea con quello dietro perfetto a questo punto ci dice di controllare che il finestrino mobile si apra e si chiuda correttamente questo tipo di finestrino con il suo particolare sistema di apertura basculante è uno degli elementi caratteristici della citronen 2 cavalli ok ragazzi a questo punto ci dice appoggia la cerniera questa nel suo alloggiamento all'interno della porta anteriore sinistra quindi andiamo a girarla così sono andato a procurarvi una un tessuto da appoggiarci qui sopra la portiera ecco qui così evitiamo che possiamo rovinarla allora ci dice ve lo leggo io qua ragazzi fissa la cerniera alla porta anteriore sinistra con due viti dm eccole qui andiamo a prendere due viti dm mettiamole qua una e due chiudiamo il sacchetto ok in ognuna delle due staffe allora ah no ce ne vanno quattro due viti da una parte e due viti dall'altra infatti i buchi sono quattro meglio così perché solo due sarebbero state veramente insufficienti a reggere il peso e il movimento allora abbiamo detto in ognuna delle due staffe della cerniera per assicurarti che quest'ultima sia centrata parliamo di questa inserisci prima una vite nel foro superiore della staffa in alto quindi qui e poi un'altra nel foro inferiore qui quindi questi esterni superiore inferiore infine serra le viti interne di entrambe le staffe allora come va messa la staffa andiamo subito a vedere guardate la staffa fatemi vedere un attimo va messa così guardate ragazzi allora vedete questa è la portiera la vedete qui abbiamo una parte smussata qui lo spigolo è vivo qui lo spigolo è smussato ecco dovete posizionarla così con lo spigolo smussato nella parte inferiore come spiegato bene anche in figura e andiamo a mettere le viti quindi andiamo a cambiare anche il cacciavite perché qui possiamo usare quello più grande scusate che lo sto prendendo eccolo qui quindi abbiamo detto la prima vite nel foro superiore alto una le puntiamo senza stringerle due e le altre chiaramente nei fori rimanenti che è bello questo modello mi piace veramente tanto anche perché mi piace tanto proprio la macchina vera la colorazione charleston è bellissima andate anche a vedere sulla mia playlist che sto facendo la ford gran torino di starsky hatch ironman andate pure a vedere ci sono tanti filmati allora a questo punto stringiamo tutto allora ragazzi vi devo dire già una cosa questa questa va bene questa va bene questa va bene e invece questa guardate gira a vuoto andrò a metterci poi un po di bicomponente per metalli quello grigio così avrò la certezza che terrà tutto benissimo bene a questo punto andiamo al passaggio successivo la cerniera è perfetta andiamo a prendere il pannello e lo disponiamo all'interno della nostra porta anteriore sinistra posizioniamo nella sola posizione che possiamo posizionarlo ragazzi questa ok e andiamo a prendere quattro viti em eccole qui quattro viti eme provo solo se si avvitano bene altrimenti creo il filetto come sapete con il grasso attenzione sempre che non gravate troppo sulla plastica quando spingete piuttosto mettete un dito qua sotto e tenete sospesa la plastica parlavo del finestrino ovviamente no non serve ragazzi aggiungere grasso possiamo montarla direttamente così senza alcun problema quindi riposizioniamo il pannello sopra di copertura e andiamo a inserire all'interno uso questo più piccolo perché ha più calamita poi lo avvito con l'altro più grande quindi puntiamo la prima vite la seconda senza stringerle assolutamente terza e infine l'ultima ok a questo punto possiamo stringerle senza esagerare quando arriviamo che diventa duro vi fermate subito non serve stringere di più non dato un altro mezzo giro perché rompete la plastica e non serve stringere di più non serve questo è un pannello di copertura non deve fare nessun altro tipo di lavoro perfetto ecco come si presenta la porta anteriore sinistra vista dall'interno e dall'esterno con il finestrino la cerniera il pannello interno montati correttamente guardate che meraviglia che bello e si apre tutto eh guardate tutto beh ragazzi a questo punto ho finito però ci tengo a farvi vedere qualcosa dove siamo arrivati fino adesso metto un attimo in pausa e prendo i pezzi che ho montato fino all'uscita numero 7 un attimo ecco qua ragazzi scusate devo tenere il cellulare con la mano perché è troppo grande tutto ciò che ho messo l'inquadratura se metto giù non riesco a far stare tutto comunque questo è dove siamo arrivati con l'uscita numero 7 guardate manca il telaio del sedile che vi prendo adesso non ve l'ho messo subito perché vi devo dire una cosa che vi ho già detto e attenzione che importante questo sedile qui andate a vedere il video dove faccio il montaggio così non ripeto tutto quello che vi ho già detto dovete riporlo all'interno della scatola una volta montato perché perché se non sostituite i gommini come ho fatto io andate a vedere il video ve li trovate tutti per aria si spezzano ho già mandato un'email alla De Agostini speriamo facciano qualcosa così come ho fatto per il bottone della coscia di Iron Man che hanno detto che lo sostituiranno un po' io e un po' altri ci hanno ascoltato quindi siccome gli originali tendono a rompersi perché sono troppo sottili se voi riponete alla fine di tutto all'interno del blister lo chiudete quando salteranno gli elastici non perderete i galcetti piccoli perché ne avete solo due di ricambio se li perdete fare questi e si li fate però è un peccato è un problema poi no non più ok ragazzi allora questa la mettiamo qui così poggiata qui ecco qui ragazzi guardate questa è l'uscita dalla 1 le uscite chiedo scusa dalla 1 alla numero 7 è bellissimo questo modello adesso io se riesco però non so proverei a pesare per vedere a quanto siamo arrivati con il peso fino adesso ma a parer mio questo modellino non peserà meno di 5-6 kg una volta finito un attimo solo che provo a vedere se ce la faccio ragazzi allora facciamo questo esperimento è un po' un esperimento un po' difficile ho dovuto mettere un pezzo sopra che adesso andrò a togliere come tara ovviamente eccolo qui è a 0 andiamo a mettere prima uno andiamo a mettere il pezzo del motore ma anche qui questo lo possiamo anche posizionare qui la ruota la possiamo mettere poi riprendo tutto bene ragazzi sto facendo i salti mortali qua per riuscire a farcela qui questo lo mettiamo con la cerniera in giù ok aspettate un attimo i salti mortali che ho dovuto fare ragazzi per pesarlo i salti mortali ovviamente nulla si tocca che guai al cielo se si rovinano le vernici eh guai al cielo guardate un po' il peso fino adesso 790 grammi che per i nostri amici americani e inglesi e questa qui la misura di peso torniamo in grammi perfetto ragazzi io con questa immagine mamma mia che brutta questa immagine sembra una demolizione di auto no ragazzi devo cambiare questa immagine non voglio chiudere il filmato così ecco qui ragazzi e con questa composizione di meglio non voglio chiudere il filmato così ecco qui 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 ecco anche sulla playlist perché ci sono cose che potrebbero anche interessarvi grazie del vostro tempo ragazzi mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete un mi piace se non vi è piaciuto non vi preoccupate non vi scomodate non mettete nulla e se invece avete piacere di aiutarmi in questo mio nuovo progetto ed è ovvio che vi devono piacere i miei video perché non avrebbe alcun senso diversamente iscrivetevi al mio canale mamma mia quanto balla questa immagine ragazzi e non ho quell'attrezzino lì con i giroscopi che mi permette di non muovere le immagini e quindi dicevo se vi sono piaciuti i miei video iscrivetevi al mio canale e condividete su gruppi dedicati anche i miei video così mi aiuterete ulteriormente alla crescita del canale stesso grazie ragazzi Michele chiude stasera qui perché è cotto e vi ringrazio nuovamente delle vostre della vostra attenzione grazie a tutti un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari ciao ragazzi al prossimo video ciao da Michele